Buongiorno, sono Enrico Orsi di Reniscio Italia. Io lavoro per la filiale italiana del gruppo Reniscio. Reniscio è un'azienda multinazionale con la sede principale nel Regno Unito che dal 1973 produce dispositivi che servono a migliorare l'efficienza dei processi produttivi. Sono dispositivi che all'inizio erano soprattutto tastatori per il controllo di processo sulle macchine utensili oppure sistemi di misura a bordo di macchine di misura. Nel tempo abbiamo diversificato la nostra produzione anche andando verso macchine di stampa 3D, verso spettofotometri per il controllo della qualità dei materiali. In particolare oggi che siamo a SPS Italia a Parma presentiamo la nostra gamma degli encoder. Noi produciamo encoder di tanti modelli diversi. Un encoder è un sistema di misura che serve da installato a bordo di una macchina per misurarne lo spostamento lineare o rotativo. Storicamente abbiamo sempre prodotto encoder aperti che sono dispositivi che con un lettore che legge un nastro o un anello danno appunto la misura di uno spostamento lineare o rotativo. Recentemente abbiamo introdotto anche encoder incapsulati come questi che vanno a bordo di macchine utensili per fare la lettura anche in ambienti difficili e molto contaminati. Quindi ci sono encoder di tanti tipi, encoder ottici, encoder magnetici, encoder aperti, encoder chiusi, encoder incrementali e encoder assoluti. Per ogni applicazione dove serve qualità di movimento, velocità, linearità, risoluzione potete fare affidamento su un nostro encoder che sarà quello adatto per l'applicazione specifica. Quindi contattateci su www.rainishow.it oppure veniteci a trovare in una delle fiere a cui partecipiamo per capirne di più. Grazie. Grazie.